La strada comunale Campremoldo-Cascina moglia nel comune di Gragnano-Trebbiense versa in gravissime condizioni, i locali amministratori comunali sembrano indifferenti come se non si fossero mai accorti del problema, il sindaco è Patrizia Calza del PD, eppure l'asseviario è pesantemente dissestato, la segnaletica orizzontale è quasi inesistente e le strisce ai lati della strada in alcuni tratti sono consumate. Una situazione di incuria e indifferenza che determina un grave pericolo per l'incolumità delle persone.